Jerry, ho letto un posto dove i pappagalli non possono essere accarezzati, ma tu ti rendi conto. Ce ne sono due anni che ti ho beccato e tutto mattino ti accarezzavo qua, e tutto mattino ti ho passato qua. Adesso come facciamo, Jerry? Come faccio adesso? Scusa, amore mio. Perché ti hai fatto accarezzare adesso? Perché qui non ti posso baciare, 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 qui non ti posso accarezzare, e ora come facciamo? Io ti chiedo scusa, scusami, scusami. Lo so, questi educatori ci danno queste informazioni, ma io non le avevo letto, che io non ti voglio baciare e ne accarezzare. Scusami, Jerry, scusami. E tutti quelli che scrivono queste cose? Va, 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 affanculo dove tanna.